Ora consideriamo un altro esempio sempre di equazioni variabili separabili, proviamo a studiare questa qui, u' uguale 1 più u quadro diviso 1 più t quadro. Qui adesso questa funzione qua a destra non si annulla mai, quindi possiamo procedere subito con la separazione delle variabili, qui abbiamo u' fratto 1 più u quadro uguale 1 fratto 1 più t quadro. Andando ad integrare a destra e a sinistra, cosa troviamo? Qui abbiamo l'integrale in du diviso 1 più u quadro uguale l'integrale in dt in d1 più t quadro. Attenzione, sembrano lo stesso integrale, però ricordiamoci che qui la u è legata a t dal fatto di essere una funzione della t, abbiamo proceduto per sostituzione qua dentro. La primitiva la troviamo facilmente, 1 fratto 1 più t quadro è la derivata della funzione arco tangente, quindi troviamo che arco tangente tu è uguale all'arco tangente di t, però ricordiamoci che stiamo facendo un integrale indefinito, quindi tutto è definito a meno di una costante additiva c, dove c è una quantità a priori reale. Adesso se andiamo a invertire questa relazione, ecco che troviamo, applichiamo la funzione tangente ai valori dell'arco tangente, quindi tangente dell'arco tangente di u sarà u uguale tangente dell'arco tangente di t più una costante, chiusa la tangente. Poi volendo qui adesso con le funzioni trigonometriche abbiamo sempre tante carte da giocare con le formule varie, se vi ricordate c'è la formula di addizione del seno e del coseno, esiste anche la formula di addizione della tangente, io al momento non me la ricordo, però la tangente è senalfa più beta diviso cosalfa più beta, allora possiamo applicare le formule dell'addizione del seno, questo è senalfa cos beta più cosalfa sen beta diviso, qui abbiamo cosalfa cos beta meno senalfa sen beta, questa è la formula di addizione del coseno. Se raccogliete cos beta e cosalfa sia da sopra che da sotto, poi si semplificano, vi rimane seno di alfa fratto cosalfa più seno di beta fratto cos beta al numeratore, raccogliendo cosalfa cos beta dal denominatore avete 1 meno senalfa fratto cosalfa per sen beta fratto cos beta e questo non è altro che la tangente di alfa più la tangente di beta fratto 1 meno la tangente di alfa per la tangente di beta. Ecco che abbiamo ricavato la formula di adizione per la tangente, in questo caso la possiamo applicare alla nostra formula che abbiamo ricavato e quindi ci troviamo che la U di T è uguale, tangente della somma diventa tangente dell'alfa tangente di T, quindi T più tangente di C fratto 1 meno tangente di alfa del primo, quindi tangente della tangente di T che è T per la tangente di C. Ok, siccome C può essere una qualsiasi costante, la tangente di C a sua volta può essere una qualsiasi costante reale e quindi le soluzioni sono, se chiamiamo K la costante tangente di C, ecco le soluzioni U di T sono della forma T più K fratto 1 meno KT e questa è una formula un po' più semplice, è una funzione razionale, mentre da lì qua non ci si accorgeva della razionalità di questa funzione. al variabile di K in R ci dà delle soluzioni, ovviamente qui abbiamo un denominatore che si può annullare nel punto T uguale 1 fratto K e quindi in quel caso lì avremo due soluzioni, una per prima di 1 fratto K e una per dopo di 1 fratto K. Vediamo un ultimo esempio di equazioni a variabili separabili, andiamo a prendere U' uguale radici quadrata di U. Qui non compare la T, quindi è della forma U' uguale a di T per B di U, in questo caso la funzione a di T è la funzione costante, possiamo prendere la funzione costante 1 e come funzione B di U prendiamo la radici di U. Quindi per separare le variabili portiamo tutta la U a destra e rimane una costante 1 di qua, quindi U' fratto radici di U uguale a 1. Ovviamente se U è 0 avevamo la soluzione stazionaria, quindi radici di 0 è uguale a 0 e quindi abbiamo U di T identicamente 0, è una soluzione stazionaria. Quando le soluzioni non stazionari possiamo dividere per radici di U, poi dopo integriamo, ecco che qui, quindi ci troviamo D U fratto radici di U, qui ci sarebbe stato un D T e un D T. La primitiva di U in D T è T più una costante e quindi integrando troviamo che, se qui metto un 2, un 2, abbiamo 1 su due radici di U è la derivata della radici, quindi troviamo 2 radici di U più una costante, sarebbe uguale a T più costante. Le costante le porto tutte da una parte, poi osservo che la radici di U è sempre una quantità maggiore di 0, quindi questo è definito per T più C maggiore o uguale di 0, ovvero per T maggiore o uguale di meno C. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo che, ricaviamoci la U, U di T sarà uguale a 1 mezzo T più C al quadrato, e anche un quarto, anche il 2, elevando al quadrato abbiamo 4U uguale a T più C al quadrato. Ok, e questa vale però per T maggiore di meno C. Come sono fatte quindi queste soluzioni? Beh, sono tutte delle parabole traslate, quindi se qui c'è meno C e la nostra soluzione sarà una parabola che ha il vertice qui sull'asse delle X. Al variare di C avremo tante soluzioni di questo tipo qua. Sono tutti rami di parabole, tutti uguali fra di loro e traslati. Ecco, e poi ricordiamoci che abbiamo anche la soluzione nulla che abbiamo trovato prima come soluzione stazionaria per il lemma taglia e cuci, poi qualsiasi soluzione fatta dalla soluzione nulla più un certo punto la soluzione parabolica, ecco che abbiamo quindi tante soluzioni che tutte si diramano dall'asse X. Possiamo sempre unire una soluzione nulla con la soluzione parabolica quando passano dallo stesso punto. Di soluzioni stazionarie se ne possono avere anche più di una, quindi per esempio un'equazione del tipo U' uguale T per 1 meno U quadro. Qui la funzione B di U è la funzione 1 meno U quadro, si annulla in più o meno 1 e quindi abbiamo due soluzioni stazionarie U di T uguale a 1 per questi siti e U di T uguale a meno 1 per ogni T. Queste sono due soluzioni stazionarie. Le altre invece le andiamo a trovare integrando, quindi avremo DEU fratto 1 meno U quadro uguale integrale di T, quindi qui avremo un mezzo di quadro C e qua avremo da integrare questa cosa qui. Questa è una funzione razionale, 1 fratto 1 meno U quadro si può scomporre 1, vediamo un po', 1 meno U, 1 più, vediamo se ci becco a memoria, se metto un mezzo, facendo il minimo comune multiplo, mi viene 1 più 1 meno U, mi sembra che col più funzioni bene e quindi l'integrale sarà la combinazione lineare di due integrali e quindi qua dal primo abbiamo un logaritmo del modulo di 1 più U, dal secondo abbiamo un meno logaritmo del modulo di 1 meno U, il meno viene dal fatto che qui abbiamo un meno, quindi possiamo anche riassumere con il logaritmo del modulo di 1 più 1 meno U, e quindi cosa ci troviamo? Ci troviamo che le soluzioni della nostra equazione sono descritte implicitamente dalla relazione logaritmo di 1 più U fratto 1 meno U uguale a un mezzo di quadro più C e quindi mi viene fuori che 1 più U fratto 1 meno U è un valore assoluto, questo sarà uguale a E alla un mezzo di quadro per E alla C, chiamiamo K E alla C e quindi avremo K volte questa cosa qui. Ora, se prendiamo, togliamo il valore assoluto, qui K è una quantità positiva, se togliamo il valore assoluto K può assumere anche valori negativi, quindi avremo qualcosa del tipo 1 più U fratto 1 meno U uguale K per E alla un mezzo di quadro dove K è una qualsiasi costante. Se K è 0 otteniamo 1 più U uguale a 0, cioè ritroviamo la soluzione stazionaria U uguale meno 1, quindi possiamo includere anche K uguale a 0, risolvendolo dal di qui. Adesso questa è un'equazione algebrica nella U, quindi abbiamo 1 più U uguale a K per E alla un mezzo di quadro per 1 meno U, e quindi portando tutte le U da una parte abbiamo 1 più K E alla un mezzo di quadro per U uguale a K per E alla un mezzo di quadro meno 1, porto l'1 di qua, e quindi la soluzione U finalmente trovata sarà K per E alla un mezzo di quadro meno 1 fratto 1 più K per E alla un mezzo di quadro, al variare di K fra tutti i possibili valori reali, troviamo l'espressione delle nostre soluzioni. Grazie a tutti.